Bella ma soprattutto generosa, Matilde Brandi, madrina d'eccezione per Emergenza Sorrisi. Matilde, una generosità e un sostegno al tuo che è già molto collaudato. Allora, intanto, com'è iniziata questa bella avventura di generosità? Guarda, era da tempo che volevo in qualche modo essere vicino ad un'associazione. Un po' questa associazione che mi ha trovato in assurdo il presidente, il professor Abbenavoli, un giorno per caso tramite degli amici, appunto, che gli avevano detto che io volevo diventare, volevo in qualche modo aiutare un'associazione per i bambini, che aiutassi i bambini e quindi ci siamo incontrati e lui è appunto presidente di Emergenza Sorrisi, questi medici straordinari che vanno ad operare, questi bimbi che nascono con gravi malformazioni al volto. Io mi sono innamorata di questa causa e ormai sono, beh, credo che questo è il terzo anno e cerco di essere sempre presente ai loro, chiaramente ai momenti dove si cerca, sembra brutto dirlo, ma di raccogliere i fondi perché bastano solamente 250 euro per andare ad operare un bambino. E quindi io dico sempre, pensiamo a questi bimbi che sono meno fortunati dei nostri, insomma, pensare al prossimo come ci insegna Gesù e come ci insegnano anche i nostri, mamma, la mia mamma, devi pensare anche al tuo prossimo. E allora, così, e quindi è andato così. E io sono felice, quando posso corro in loro aiuto. Sei splendida nella tua generosità, ma una cosa te la voglio chiedere, ecco, tu mi hai citato giustamente il dottora Benavoli che è sempre in prima linea, direi. Ho notato però che in questo gruppo, Emergenza Sorrisi, c'è un pool di donne fantastiche, ecco, questa sensibilità al femminile, una tua opinione, una tua battuta su questo. Amore, noi siamo... ma è la donna che manda avanti il mondo! No, veramente, poi se consideriamo che c'è un uomo ogni sette donne, quindi il parametro è quello. Sì, sono ragazze dolcissime, poi la stessa Rosa Benavoli, insomma, la vicepresidente, sono ragazze che lavorano veramente senza un ritorno, lo fanno proprio per questa causa e funziona proprio per questo, perché siamo una famiglia, ci vogliamo bene e va avanti proprio per questo. Grazie Matilde, splendida, ti lascio la tua serata, grazie. No, anche la tua, perché Camila... La condividiamo stasera? Esatto, sarà la seconda madrina, due madrine, anzi, più madrine ci sono e meglio è, perché Emergenza Sorrisi vuole tante madrine. Vi aspettiamo allora. Grazie a tutti.